E' incredibile quello che succede a Taranto. Un avviso pubblico per il conferimento di numero uno incarico di collaborazione per l'attivazione dell'area logistica e sostenibilità, avviso pubblico per il conferimento di numero sei incarichi di collaborazione per l'attivazione di Talune, aree di attività. C'è l'avviso di convocazione per il colloquio orale e chi è uno dei candidati per l'area relazioni istituzionali e rapporti con gli enti locali? Indovinate un po' chi è questo candidato al colloquio orale? Qualche secondo di suspense. Mattia Giorno, assessore ai lavori pubblici del comune di Taranto. Oltre ad essere assessore ai lavori pubblici del comune di Taranto, sosterrà questo colloquio, è stato convocato per questo colloquio orale ai fini di avere l'incarico relativo all'area relazioni istituzionali e rapporti con gli enti locali. Per carità, non sto parlando di illicità, lungi da me, tutto lecito, tutto quello che volete, però queste cose succedono solo a Taranto. Mi sembra davvero una cosa, come dire, qualcosa di curioso, cioè che un assessore ai lavori pubblici poi debba fare il colloquio, il colloquio orale per essere messo, inserito, per ricevere l'incarico inerente all'area relazioni istituzionali e rapporti con gli enti locali. Ma scusate, ma a Taranto, Mattia Giorno, non poteva fare l'assessore ai lavori pubblici e basta? Non sarebbe opportuno che questo incarico, magari di questo incarico, beneficiasse qualche A, ammesso che superi il colloquio, Mattia Giorno, ma dico, non sarebbe stato e non sarebbe opportuno che qualche altra persona eventualmente ricoprisse questo incarico, perché ci sono tanti giovani laureati che hanno fatto master, che hanno fatto scuole di specializzazione e quant'altro. Ma, signori cari, alla fine vediamo qui a Taranto, al comune di Taranto, gira e gira, sono sempre le stesse persone, sono sempre le stesse persone. Io, ripeto, non sto parlando in termini di illegalità, assolutamente no, tutto legito, tutto quello che volete voi, però esistono le ragioni di opportunità, quelle ragioni di opportunità per le quali Mattia Giorno, assessore ai lavori pubblici, dovrebbe fare non un passo indietro, ma dieci passi indietro, perché è una cosa curiosa, è una cosa assurda che uno deve vedere, uno che è assessore ai lavori pubblici e contemporaneamente deve avere l'incarico, deve sostenere il colloquio per avere il ruolo nell'area delle relazioni istituzionali. E poi cosa farà dopo che, se Mattia Giorno dovesse superare il colloquio? Insomma, insomma, Mattia Giorno, abbiamo capito che devi fare il candidato sindaco dopo Melucci, che stanno creando la figura del candidato sindaco dopo Melucci, però Mattia Giorno lascia spazio a qualche altro, ci sono tanti giovani capaci, pensa piuttosto alle buche, ai marciapiedi, alla città che sta crollando a pezzi, per quanto riguarda i lavori pubblici siamo ai piedi di Cristo, caro Mattia Giorno, pensa a queste cose, invece del colloquio orale per l'area relazioni istituzionali e rapporti con gli enti locali. Come dicevano i latini, omnia mundamundis, tutto è puro per i puri, però mi sembra un po' imbarazzante che poi l'assessore ai lavori pubblici debba essere giudicato da altri soggetti del comune di Taranto. Chissà, lo supererà l'esame Mattia Giorno? Glielo auguriamo, però è quantomeno imbarazzante, un assessore che viene giudicato da altri soggetti dell'amministrazione comunale. Ma, 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 io non ci capisco proprio niente. Questo è Taranto, cari cittadini, posso dirlo in dialetto alla Tarantina Maniera, come stamacisa.